Eventi 2.0? Come fare degli eventi che escano fuori dalla norma? Mi ricordo di un evento veramente fantastico che pagherei per poterci tornare ora e ripensando a questa serie di workshop ed in particolare ad uno che avvenne nel 2004 non posso che ricordare degli aspetti interessanti che non vedo negli eventi, nei workshop, nelle conferenze alle quali partecipo in Italia eppure gli ingredienti per poter fare di meglio, di più di quanto io ho visto così tanti anni fa ci sono tutti si tratta solo di volere, di darsi da fare, di spingersi oltre il minimo scontato che fanno tutti gli altri io ti dico la mia poi fammi sapere cosa ne pensi se non senti anche tu che saresti veramente interessato ad un evento organizzato così ti dico qualche elemento che secondo me fa tutta la differenza numero 1 il contesto geografico dove ti trovi cioè invece di piazzarti in un albergo sconosciuto nel mezzo del cemento, nel mezzo del centro di una città in mezzo di una prateria sconosciuta, nel mezzo del nulla questo albergo stava in un posto fantastico, in un circondario fantastico in una penisola tropicale che si chiama Penang nella Repubblica della Malesia in Italia ci sono centinaia di posti che sono del tutto speciali che sono in delle cornici di interesse, di storia, di attrazione locale, di natura bellissimi non è che ci mancano i posti, dici ma la Malesia è tropicale 2 l'evento non durava al solito mezza giornata, una giornata, un giorno e mezzo o due durava una settimana, dieci giorni e questo faceva tantissima differenza perché quando 50, 100, 200 persone stanno nello stesso albergo per così tanti giorni si crea un humus sociale si creano delle amicizie, delle conoscenze, degli scambi veramente ricchissimi che non hanno la possibilità di sbocciare quando ci incontriamo per poco tempo e quindi lo stare insieme, il dover collaborare, cooperare, magari nel creare dei progetti e doverli poi presentare alla fine di questo workshop al pubblico beh, fanno veramente tantissima differenza perché poi noi esseri umani quello che apprezziamo di questi eventi è la possibilità di conoscere altre persone di poter interagire e apprendere dagli altri non soltanto di stare seduti ad ascoltare qualcuno che parla elemento numero 3 gli alberghi non solo stavano in un contesto geografico particolare ma gli alberghi di per sé erano bellissimi rompevano con la tradizione degli eventi tipici dove vado dove gli alberghi sono del tutto insignificanti sono quasi un appendice ad una sala che è stata affittata dove poi avviene tutto quanto ma sembrano quasi distaccati invece questi alberghi erano proprio delle famiglie che accoglievano questi eventi quindi albergo bellissimo 17 stelle sulla spiaggia che da un lato esci e c'hai chilometri per camminare in stradine, mercatini e cose interessanti e invece dentro albergo esci e c'è una spiaggia palme, piscine, ristoranti cioè stai in un paradiso numero 4 non si sta della mattina alla sera dentro queste aule insignificanti brutte, fredde, noiose, aride, asettiche ma si sta in dei posti bellissimi ogni tanto in qualche salone particolare ma soprattutto fuori e ancor più che fuori dentro dentro dove? dentro l'acqua sessioni in piscina sessioni a bordo piscina sessioni sotto al bungalow dove si prendono gli aperitivi sessioni informali ma ricche perché non sta scritto da nessuna parte che uno deve stare per forza ordinato, seduto, in ordine, tutti in fila per imparare qualcosa l'importante è stare insieme a proprio agio avere degli spunti interessanti e poi poter interagire fare delle piccole gare dei giochi, dei contest dove le persone sono coinvolte dove devono usare la testa e partecipare e quindi stare dentro l'acqua con questi ciccioni giovani, vecchi, magri, alti, bassi era fantastico professoreste, insegnanti filosofi, studenti, ricercatori tutti immersi con la loro bella ciccia nell'acqua e con qualcuno in mezzo che spiega ma che bello fantastico imparare con questa atmosfera informale e poi che ancora bellissima la possibilità di lavorare in gruppi e di competere verso un obiettivo finale bellissima l'idea l'ultimo giorno di avere un grande show come fosse un festival cinematografico nella quale tutti i gruppi presentano mostrano e spiegano quello che hanno realizzato il pubblico applaude fanno il karaoke danno i premi e tutti premiano qualcun altro non c'è nessuno che non riceve un feedback un commento una possibilità di apprendere qualcosa riguardo al suo progetto o di scambiare con quello degli altri che bello spirito di collaborazione di apprendimento insieme questo fa tutta la differenza nel creare degli eventi veramente indimenticabili